In America il mese di febbraio è dedicato alla celebrazione della cultura afroamericana, al ricordo delle tradizioni e della schiavitù, un'usanza che si chiama Black History Month e che vuole far conoscere anche ai più piccoli il contributo che uomini di colore come Martin Luther King, Nelson Mandela e tanti altri hanno fornito alla storia. Un piccolo pezzo di quella memoria è stato consegnato oggi con una collezione di libri per bambini sui temi della cultura americana alla Biblioteca Comunale di San Giovanni a Teduccio. Faccio un appello anche in realtà perché abbiamo bisogno di arricchire le biblioteche, case editrici, fornitori, privati che vogliano contribuire, famiglie che vogliano contribuire a loro modo a questo processo per noi molto importante e significativo. Con gli assessori alla cultura del comune e della municipalità il console americano James Rodriguez ha fatto visita ai ragazzi delle scuole del quartiere per spiegare il significato di questa ricorrenza e ribadire l'importanza della lettura. Questa donazione l'abbiamo fatta perché oggi è il mese della storia afroamericana negli Stati Uniti e per questo ha molti di questi libri il tema e l'afroamericano negli Stati Uniti. Per noi è un onore poter lavorare insieme con la biblioteca, specialmente quando possiamo aiutarli, ai bambini, a imparare un poco delle Stati Uniti. Testimonianza della collaborazione tra enti e istituzioni culturali avviata da mesi dall'assessore Antonella di Nocera, la donazione di libri del consolato americano è la prima di una serie di iniziative di rilancio e promozione delle biblioteche comunali. Da dicembre scorso e fino a maggio 2012 sono in programma più di 100 incontri e laboratori con scrittori, registi e personalità del mondo artistico e culturale. Il programma completo degli appuntamenti è sul sito www.comune.napoli.it È un'occasione questa che deve essere l'inizio di un percorso di arricchimento delle nostre biblioteche che io ritengo siano i luoghi da animare per la cultura su tutto il territorio. Non c'è l'abitudine e bisogna riprenderla anche perché le strutture sono belle, come questa è una bellissima struttura e i bambini qui possono stare bene con i loro maestri e con gli educatori.